musica 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 tanta guagna ragazzi qui Mr. Camper e Mr. Spawn tornati sui Mythbusters su extinction oggi incredibile niente zombie mito numero uno se lancio la corazza prima di andare a terra una volta rianimato la riprendo allora questa è la corazza la gettiamo a terra perchè noi siamo spendacioni buttiamo le cose per terra accioni e sbattiamo il cazzo delle corazze esattamente la buttiamo nel vomito noi andiamo a terra sperando che qualcuno venga a salvarci prima di andare a prendere quella corazza e l'idea penso sia come i perk di Call of Duty cioè tu li bevi vai a terra e li perdi e voglio vedere se qui invece si può riprender visto che l'hai messo per terra e effettivamente noi ci rialziamo passiamo sopra la corazza e incredibilmente la corazza cioè quindi confirmed meto numero due un rhino catturato col coltello hypno hypno dopo un po' muore da solo sai che hypno mi ricorda quel pokemon della prima generazione esatto quello che faceva iiiipno e infatti hypno ha usato l'attacco hypnosi è super efficace è rincoglionito e il rhino nemico non è più nemico è addormentato e adesso esplode ok quindi si dopo un po' muore da solo è super efficace confond numero 3 si possono piazzare più di 5 torrette con la venom viola una venom viola che immagino sia una sorta di super liquidator gigante che spara torrette in forma di piante esatto l'abbiamo indovinato ma guardate è proprio così si cazzo ne mettiamo 3 ne mettiamo 4 il nostro amico mette anche la quinta se parli così teme sempre d'ora l'esploratrice si facciamo un bel gioco ok e vedete che ne mettiamo una e ne scomparo un'altra dai non sarebbe che lo dici la gente sa contare sono 5 rimangono 5 non c'è niente da fare ragazzi questo gioco ha deciso così 5 è il numero più grande di sempre alla faccia del 7 insomma fanculo il 7 basti mito numero 4 la trappola ipno funziona sul sider qua è tutto molto ipnotico che abbiamo il coltello e abbiamo anche la trappola il sider dovrebbe essere questa sorta di alieno salterino birbantello che non ho ben capito cosa faccio esattamente scrivetelo voi nei commenti perchè sono abbastanza ignorante di extinction comunque quello che abbiamo capito noi è che chi finisce su quella trappola rimane fregato ma questo alieno qui per ora o non ci finisce sopra oppure la trappola non funziona proprio e 2-3 volte cioè una paio di volte all'inizio abbiamo visto che proprio ci è passato sopra e non la trappola non si è attivata quindi l'idea è che probabilmente questo qui non gli funziona la trappola rivediamo non è molto efficace la trappola ipno non è molto efficace lui è resistente resistente ai tipi psycho esatto basti mito numero 5 è possibile creare una sfera energetica per proteggersi dagli alieni qua insomma si passa da pokemon a dragon ball esatto si più o meno abbiamo abbiamo sì beh c'è anche un bel po' di fisica qua dentro eh comunque perché abbiamo queste bobine di tesla che vengono potenziate da un generatore elettrico messo nell'angolo e mamma mia incredibile la fisica esiste su call of duty ghost esatto per la prima volta c'è qualcosa di fisico forse un po' eccessivo però c'è qualcosa di fisico qui ci sono le bobine di tesla collegate e gli alieni ci si ficcano dentro proprio e vengono arrostiti proprio pesante bah confirmed ed ora proprio lui mito numero 6 inaspettato incredibile cazionale proprio lui mito numero 6 la sfera di energia della tesla segue i giocatori ebbene vediamo un po' questa sfera che abbiamo creato con l'elettricità poi va via l'elettricità e la sfera rimane si e fluttua mhm e ci segue con dei movimenti un po' tipo elastici che va viene si delle sorte di calamita sono diventate queste bobine mhm non ho idea di cosa non ho idea di cosa serva quella quella sfera però ci segue si è il nostro angelo custode mhm c'è che solitamente come un angelo custode che ne so ha un angelo con un barret e loro hanno quella sfera di mhm preferirei un angelo con un barret comunque va bene confirmed mito numero 7 l'ultimo mito si possono appiccicare le semtex addosso al phantom che il phantom è quel carinissimo alieno che riesce a trasportarsi in una dimensione e ritornare di nuovo nella vostra un po' più o meno cioè ok adesso abbiamo parlato di pokemon di dragon ball sapete parlarvi di naruto e vanno nell'altra dimensione ritornano e non gli attacchiamo una semtex ci va o non ci va nell'altra dimensione questa semtex eh direi che ci va e poi ci ritorna indietro esatto è un po' difficile da capire ma comunque la semtex si è attaccata ha fatto tutto l'arco sopra la nostra testa e è scoppiata dove c'era qui confirmed l'episodio finisce qua incredibile dobbiamo però prima prima di chiedervi like per il prossimo episodio dobbiamo ringraziare aracris che ci ha fatto la intro e gli intramezzi non so se avete visto che roba oscena è nel senso neanche in 15 anni di vita io riuscirei a fare il minimo di quello che ha fatto lui passate dal suo canale perché lui fa anche videogiochi in real life fa tutto questo ragazzo quindi 3000 like per il prossimo episodio commentate suggerendoci i prossimi miti da sfatare da camper e da spawn è tutto ci si vede al prossimo video bella ragazza bella